Con la richiesta di anticipare il punto e di discutere subito, noi abbiamo dimostrato nei fatti, tutta l'opposizione, che non solo siamo pronti, ma abbiamo la volontà di andare fino in fondo su questa questione. La maggioranza ha dimostrato che invece c'è ancora un gioco delle tre carte aperto su questa questione, un gioco tutto interno alla maggioranza, riteniamo che questa maggioranza sia altamente divisa, che il sindaco sia stato il responsabile di questa divisione e abbia diviso nella, tra l'altro, poca trasparenza e chiarezza. Quando invece c'è bisogno di chiarezza e trasparenza, quando si è di fronte ad una questione delicata sotto il profilo del futuro del nostro territorio, c'è una domanda dell'impresa che deve essere vasa, a cui deve essere data risposta. Non è possibile andare avanti con rinvii ambigui e con rinvii che sottacciono e sottendono qualche altra cosa, cioè altri scontri che non sono quelli di sostanza, di merito, sulla opportunità o meno di dire di sì ad un insediamento produttivo, ad un insediamento industriale. Ma sono scontri relativi a questioni tutte interne, lo ripeto, alla maggioranza che è divisa e che ad oggi non c'è. Ecco perché non è stata accolta la richiesta di discuterne subito, perché ad oggi il sindaco non ha la maggioranza, non ha i numeri per governare, non ha i numeri per portare avanti una sua linea.